Bene, abbiamo cacciato in questa fase la frittura, vedete che si trova già di una cottura secondo me anche del 85 per cento. No comunque adesso facciamo, vedete, la mettiamo al momento in questo contenitore, poi faremo uno sgrassaggio minimo a purificare un pochettino la parte del grasso, così la rendiamo con qualche problematica in meno di conservazione, ecco, a volte fare qualche passaggio poi aiuta almeno nella conservazione. Adesso noi la rimuoviamo tutta e poi rimetteremo ancora con l'acqua, con il brodo sgrassato, di nuovo per mezz'oretta, così già più che sufficiente, e poi possiamo invasarla come abbiamo fatto con Suso. Nel frattempo che cuoce, sterilizziamo i boccacci. iscriviti... ...